Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, che la diritta via era smarrita. Secondo gli studiosi il viaggio di Dante Alighieri, nei meandri nell'aldilà, iniziava proprio nella notte tra il 24 e 25 marzo del 1300 e così oggi nel Dante D. si festeggia il padre della quarta lingua più studiata al mondo, ovvero l'italiano. Fu proprio Alighieri che nel 300 esaltò il valore della lingua vulgare nella sua opera De vulgare eloquenzia e lo scelse per scrivere la Divina Commedia, opera tra le più importanti nella letteratura italiana. Molte le iniziative promosse in città e l'evento conclusivo di oggi vede la musica come protagonista al Teatro Margherita alle 21 con il concerto dell'orchestra sinfonica siciliana. Dante è poesia, Dante è arte, Dante è musica, Dante è no alla doppiezza, sì alla sincerità. Dante è l'unità della nazione. In questo spirito oggi, in occasione del Dante D, abbiamo organizzato una serie di iniziative che si svolgeranno sia a carattere individuale, sia a carattere collettivo, nelle singole associazioni e nelle varie scuole. Noi concluderemo, e non a caso stasera, al Teatro Margherita con un messaggio di speranza che precederà il concerto dell'orchestra sinfonica siciliana. Concluderemo con gli ultimi sei versi del 34esimo canto dell'inferno che concludono con «E quindi uscimmo a rivedere le stelle» e la speranza per tutti di ritrovare pace, serenità e un futuro per questa umanità che in questo momento sta attraversando una delle tragedie peggiori dell'ultimo periodo.